Ciao, siamo qui a un nuovo episodio di Hack Brutte è una traduzione di un nostro amico carissimo che salutiamo e mandiamo un bacione, ovvero B-Sharp Per le velocità del testo abbiamo tre puntini I-Punto Esclamativo e quattro punti esclamativi E poi a posto della cornice c'è Marco Ok, cominciamo, dai Video chiamata per Indigo Platò da Palletown Congratulazioni, ho un amico che ti stava aspettando Ehi, il tuo Mac è molto felice Tu sei stato l allenatore di Biancavilla che ha raggiunto il grado più alto Più alto Scusa Nella Lega di Canto Perché è così centrato il testo Siamo tutti molto orgogliosi delle tue vittorie Ok, ma ora sbrigati e torna a Biancavilla Ho preparato un piccolo lavoretto solo per te Ma prima devi scegliere il tuo personaggio Quale dei due preferisci, Ash o Misty? Vi prego Misty Ok Perfetto, qual è il tuo nome? Marco Qual è? Eh sì, lo so L'ho visto E poi c'è uno che si chiama Nghi Va bene Sì Devi incontrare la prof Evie il più presto possibile Tu puoi ritornare indietro grazie a questo Nghi riceve Zeppelin ticket Grazie a questo vi sarà possi... Cioè Vi sarà Vabbè Vi sarà ci dà da lei Prendere il dirigibile per Biancavilla Dalla Indigo Ti auguro buona fortuna Non lamentatevi Dai Senza lo spazio Si viaggia in un dirigibile Sei stato fortunato ad avere questo volo Spero che il viaggio sia comodo Ok Vi aspetto a Biancavilla Non ritardare Oh no Pikachu che salta Il camion è un dirigibile Che bello è Oddio Ok Pikachu Pikachu non vede l'ora di arrivare a Biancavilla E di avere molte più avventure Cosa? Eh 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 Buongiorno Non c'era prima Non c'era Non c'era Oh mio dio Ehi stop Fermo Questa non è la metropolitana Non ho intenzione di farvi entrare grati Gratissi Per viaggiare in un dirigibile Dovete avere un biglietto Le regole sono regole Non posso permetterle a nessuno Ma aspetta Non posso permettere a nessuno Passare senza pagare Benvenuti a Biancavilla Il volo è stato tagliato corto Giusto? In che senso? Eh Ok Qua iniziano a vederci Le traduzioni bellissime Questo è quello Che la compagnia aerea Zeppelin Ha Voli di lusso Non la posso biasimare Se vuole salire a bordo di nuovo Ma è necessario L'acquisto di un biglietto prima I voli Zeppelin Sono estremamente divertenti Mi piace guardare i volti Di altre persone Dopo il loro arrivo Uno per uno Eh eh Praticamente Siamo in la bizzarra aventura di Jojo Io posso far comparire i pokemon Come se fosse lo stand Guarda eh No Sono uscito Niente scherzone Come si chiama? Pueblo paleta Com'è che l'hai scritto? Scusa Ehi Andiamo Pikachu Ma Pikachu con la C Eh sì Stiamo andando a visitare il prof hoc Oh È bello il dialogo non trato Ehi Sì sì Ho capito Ha saltato la staccionata Va bene Tu cosa vuoi? È solo game po' Tu sei in G Voglio un Pikachu come il tuo Me lo dai? No Ehi avete intenzione di viaggiare nella nostra nave? Il guietto Grazie Un giro nella prenotazione Per ora tu non puoi viaggiare nella nostra nave Non sulla nostra nave No Perché sta parlando con una stazione? Non ne ho idea Oddio c'è È metà inglese Metà Spagnolo È italiano Non sto capendo Stai scherzando Non sanno mettere il Dex nazionale Ma vai a cagare Oddio Ehi avete intenzione di viaggiare nella nostra nave? Il guietto Grazie Ma ce l'ho la prenotazione Mica mi è la data? No Ti è dato le Pokéball E dove devo andare? E la GS Ma Ma E dove devo andare? Ah mi immagino ti ho mandato a mia madre Per dire lei Sto per partire Guarda mamma Ciao mamma E vai a prendere la Perché voglio Ah Ah E andiamo di qui Valencia isla Oh buon dio Cosa? Ma 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 Non ho capito Possiamo concludere qui Che già B-Sharp è uno schifo Cioè B-Sharp ha praticamente Utilizzato la pace inglese Per farci sopra la pace italiana Io chiudo Eh Cioè B-Sharp ha praticamente